Sei pronta a dominare il moto mondiale con Audiomoto Championship? Affronta i tuoi avversari in sella moto sempre più veloci! Conquista le categorie 125, 250 e 500 del moto mondiale e porta la vittoria alla tua scuderia! Cimentati nei numerosi tornei di Audiomoto Championship in cui potrai metterti alla prova con piste varie di crescente difficoltà. Inizia come un semplice novellino, guadagna la fama mondiale e diventa il campione di Audiomoto Championship!